Mister Di Domenico, sconfitta l'esordio 3-1, abbiamo visto due partite, prima dell'esposizione di Conè e dopo. Possiamo dire che controllo corato fino al minuto 72, poi chiaramente in 10 è crollata un po' la squadra. Un racconto di questa partita? Sì, abbiamo fatto una buona gara per 70 minuti, poi facendo il gol, producendo altre occasioni pericolose. Poi c'è stato questo episodio di Conè, dove l'arbitro secondo me è stato un po' frettoloso nell'espulsione e poi la partita si è indirizzata male perché non siamo stati lucidi. Ci siamo fatti prendere un po' dal nervosismo, ci siamo fatti prendere dalla fuga di voler per forza vincere in 10 e abbiamo pagato questo. Al netto degli episodi comunque una buona prestazione contando tutti i 90 minuti? Sì, è chiaro che c'è grosso rammarico, c'è grosso rammarico di andare via di qua con zero punti dopo una buona prestazione. È stata un tantino condizionata e questo ci tengo a ribaderlo, è un po' condizionata dalle scelte di un arbitro che secondo me è stato inadeguato rispetto a questa gara, sbagliando da una parte e dall'altra. Ora prossimo impegno con Mola in casa, senza Conè e senza Cannito, due protagonisti. Sì, paghiamo lo scotto di questa gara con le due espulsioni e due giocatori importanti per noi che mancheranno domenica. Dovemo andare a reinventarci una nuova formazione sperando di mettere meglio in campo quella migliore.